Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere tutte le immagini del diario di una schiappa. Vedete l'immagine del primo. E poi vedete l'immagine del secondo. E poi vedete l'immagine del terzo diario. E vedete l'immagine del quarto diario. Vedete l'immagine del quinto diario. L'immagine del sesto diario. Salvi chi può. E poi te. Te proprio te. Te. Non ascolti? Non ti prendo il video. Allora. Poi c'è diario sette. Vedete l'immagine del quinto. Povero Greg. E poi vedete l'immagine dell'otto. Sfortuna nera. Vedete l'immagine del nono. Vedete l'immagine del dieci. Vedete l'immagine dell'undici. Sfortuna nera. Il dodici. E ragazzi ci vediamo. Ciao ragazzi. E oggi.